Passiamo ora alla nuova colata di cemento prevista per la costruzione dei 110 appartamenti in via Altobello a Campobasso, anche se l'ultima parola aspetta al Consiglio Comunale di domani. Un'altra perla dell'amministrazione Battista che parlava di riqualificazione urbana e non più cemento a Iosa a Campobasso, mentre tra via San Giovanni in Golfo e via Altobello saranno realizzati altri 110 appartamenti per un valore calcolato di circa 25 milioni di euro. Il programma progettuale arriverà domani in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione e ci sarà la conta dei consiglieri a favore e di quelli contrari sempre che non ci saranno fughe e astensioni strategiche. Ma la situazione a Campobasso, migliaia di appartamenti sfitti o invenduti non danno alcun segnale alla imbrinditoria idile né all'amministrazione comunale che imperterrite invece continuano la prima a costruire e la seconda a rilasciare autorizzazione a costruire. A quale logica economica e a quale logica urbanistica corrispondono rimane un mistero. Nel bailam politico amministrativo e ordinamentale è impossibile introdurre riflessioni sull'opportunità di intervenire. Non attecchiscono né si discute sul danno che deriva dall'assenza di una regolamentazione urbanistica come fattore equilibratore dell'interesse privato e di quello pubblico. L'assenza di regole e di regolamenti ha prodotto e continua a produrre una vertiginosa decadenza urbana tant'è che si è potuto costruire a filo di strada l'ingrocio semaforizzato di via Principe di Piemonte offendendo tutte le logiche dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'architettura nel solito disinteresse generale. A conclusione del mandato popolare questa sindacatura non avrà altro da scrivere a se stessa che le migliaia e migliaia di metri cubi di cemento privato fatto colare in ogni angolo libero del territorio dove si concretizzava unicamente il vantaggio privato e il danno pubblico. Cemento privato perché di cemento pubblico nemmeno l'ombra.